359 assunzioni fantasma, con danno alle casse dello Stato di oltre un milione di euro, è la truffa perpetrata da un'impresa ai danni dell'Inps che le fiamme gelle della Compagnia della Guardia di Finanza di Rossano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovilleri, hanno scoperto. Al centro della truffa la presentazione all'ente previdenziale di falsi documenti dal 2010 al 2012, ottenendo la liquidazione di somme relative a indennità di disoccupazione per un importo di circa 550.000 euro ed indennità di maternità e malattia per circa 450.000 euro, con un danno complessivo all'erario di oltre un milione di euro. In particolare la società ha denunciato all'Inps 38.300 false giornate di lavoro effettuate sui terreni di cui non aveva mai avuto la disponibilità, ovvero attestandone l'utilizzo attraverso il deposito di falsi contratti di comodato. Sono 359 gli inesistenti lavoratori, tra i quali anche soggetti già noti alle forze dell'ordine e gravati da numerosi precedenti penali, denunciati all'autorità giudiziaria unitamente agli amministratori e promotori della truffa, responsabili anche di illecita somministrazione di mano d'opera e omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie.